Adesso Vale, come ogni settimana, c'è la rubrica di Silvia Pagni, stiamo parlando di biglietto da visita. Biglietto da visita, oggi ci presenta i Dick Dick. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica settimanale biglietto da visita. L'ospite di oggi è un frontman e anche uno dei due fondatori di un gruppo che ha fatto innamorare diverse generazioni. Vado subito con la domanda di Rito. Gentile ospite, mi sente? Ti sento benissimo. Perfetto, ci sveli il suo biglietto da visita. Beh, io sono nato, sono l'uno degli ultimi prodotti anteguerra. Sono nato il 5-11 del 1939, non 800, ma 1939. Eccezionale. A Milano. E sono praticamente entrato nel gruppo dei Dick Dick con Pietruccio. Abbiamo fondato questo gruppo, ormai è diventato, adesso non è una questione di modestia, è diventato famoso, sono 60 anni che giriamo da tutte le parti e abbiamo un bagaglio di canzoni che i nostri fan, e anche quelli che ci conoscono meno, come i ragazzi, i giovani, scoprono man mano per strada. Sono canzoni che conoscono tutti e fanno ricordare tante cose, insomma. Sono dei flashback veramente notevoli. Io sono veramente molto felice e onorata di averla qui con noi, in questa rubrica, che ci sono tanti telespettatori che stanno vedendo, vogliono conoscere meglio questo gruppo, veramente che è di generazioni, porta avanti la musica. Come sono nati Dick Dick? Vado subito alla primissima domanda. Noi praticamente siamo nati, io Pietruccio e Pepe, che purtroppo ci ha lasciato ultimamente, siamo nati nello stesso rione. Eravamo dei compagni di giochi, con la mania poi pian pianino della chitarra, e siamo nati così, scherzando, ridendo e giocando con lo strumento. E pian pianino ci siamo resi conto che quando cantavamo, quando suonavamo, eccetera, la gente, i ragazzi della nostra età ci ascoltavano e ci applaudivano. Perciò evidentemente c'era qualcosa di buono già in partenza. Poi abbiamo avuto dei colpi di fortuna, perché nella vita bisogna essere anche fortunati. Ah, sicuro. E così abbiamo registrato, abbiamo fatto un contratto con la Casa Discografica, ricordi? Beh, prima ci sono state diverse cose da raccontare, ma mi dilungherei forse un po' troppo. E il primo disco è stato una cover, perché allora si facevano cover, si copiava un po' quello che arrivava d'oltreoceano e dall'Inghilterra. Erano un po' la nostra mania di trovare cose nuove. Il primo disco era una cover di un certo Lan Berry, e si intitola, perché c'è ancora, un 2-3. Dopo questo disco la fortuna ci ha portato a registrare Sognando la California, e da lì i Dick Lee sono partiti alla grande. Questo è stato un po' l'inizio della nostra storia. Voi potete veramente, come scusa? Prego, prego. No, 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 dimmi, non aspettavo. Progetto che voi potete assolutamente insegnare tantissimo, perché ce l'avete superato veramente diverse generazioni, e siete ancora oggi più che uniti. Ma com'è possibile un gruppo così che è nato nel 1965, se non erro? Sì, esatto. E ancora oggi è così unito, e ancora oggi fa tanti spettacoli. Certo, tutti gli anni noi ci mettiamo di lena buona e ce ne andiamo in giro per l'Italia, quando capita anche ogni tanto di andare oltreoceano, così in Canada o da qualche altra parte. Però è sempre piacevole, cioè è faticoso, perché non abbiamo più 20 anni, però quando mettiamo il piede sul palcoscenico passa tutto. Dimenticate l'età. Sì, sì, dimentichiamo tutto e facciamo i galletti sul palco e saltiamo qua e là. Questa è sempre una cosa molto divertente e molto appagante. È veramente notevole. È una vera avventura la storia dei Dick Dick. Qual è stata l'avventura di tantissimi anni, ma un ricordo più bello di questi anni qua? Eh beh, il ricordo più bello, penso che te ne potrei raccontare molti, ma quando tu fai registrare una canzone nuova, hai l'emozione di aspettare, vedere cosa succede e cosa non succede. Anche se tu sei innamorato di quella cosa che hai fatto, non è detto che gli altri accolgano con favore quello che tu hai fatto, il lavoro che tu hai fatto. Però fa parte del gioco, cioè non sempre hai sognando la California o l'isola di White o il primo giorno di primavera, che sono state tutte delle hit notevoli. Perciò vai avanti così, sempre con queste emozioni che volta per volta tu tu cerchi di accumulare nella tua rubrica di vita, giusto, o rubrica come si dice. Questa è la situazione. Questo forse è anche quello che ci tiene giovani, perché gli amici sono, però per noi, ti dirò, noi non li sentiamo, cioè perciò... Bravi, bravi. Ma infatti il pubblico questo lo sente, lo vede, perché la musica sempre porta le persone ad essere giovani, sempre, ma essendo frontman, qual è la canzone che ti piace di più? Che canto più volentieri? Sì. È questo che volevi dirmi? Sì. Beh, noi siamo legati, sai benissimo, a Battisti, perciò quello che sono le canzoni, sono le canzoni di Lucio, sono quelle che quando le canti ti danno sempre un'emozione notevole. Io per esempio, noi anzi, dico devo dire noi, cantiamo anche emozioni e ti dirò che qualche volta mi emoziono io e non riesco più ad andare avanti a cantare. Ma che meraviglia, che meraviglia. Ma quanti anni di palco e di concerti hanno avuto i Dic Dic? Tantissimi, tantissimi. Non lo so il numero, non li abbiamo contati. Immagino quanti grandi personaggi come voi avete incontrato durante il percorso. Ma ti dirò che noi siamo stati, abbiamo sempre vissuto ai margini della situazione musicale italiana, non eravamo molto a dentro, è logico che poi in certi spettacoli, in certe cose televisive, abbiamo incontrato più o meno tutti. Però non è che abbiamo frequentato, ma non per una cosa nostra riservata, non lo so, siamo sempre stati ai margini, non avevamo voglia di farci vedere o di cose, abbiamo uno spirito un po' così, siamo un po' Pietruccio magari è quello più estroso, è quello che si mostra un po' di più. Ma io sono abbastanza di famiglia. Me ne sto bene a casa mia, perciò va bene così, siamo contenti, almeno io sono contento così. I nostri amici, gli altri che suonano con noi, sono dei ragazzi, anche loro all'altezza della situazione, si divertono, però durante la settimana non è che noi ci frequentiamo, e perciò quando ci vediamo siamo più contenti di vederci. Queste sono domande che sinceramente non sono scritte qui, ma mi curiosiscono proprio a me. In tutti questi anni c'è stata un'involuzione della musica pazzesca nel vostro campo, nel vostro genere, nella musica pop. Il Sanremo di oggi, il Sanremo è già passato, ma gli artisti di oggi, come vengono valutati da un gruppo così forte come il vostro? Ma guarda, io ti dirò, io mi ricordo ai tempi quando noi abbiamo cominciato a suonare, e allora ancora andava di moda, che so, Cino Latilla, La Pizzi, Quartetto Radar, Quartetto Cetera, tutti questi cantanti un po' così, fino all'arrivo poi degli urlatori, che hanno cominciato a sconvolgere un po' il branco. Poi è arrivato il rock and roll, e noi ci siamo appassionati a questa musica, e mi ricordo che in Rai non si vedeva niente di tutto questo. Allora avevamo, c'era una radio che trasmetteva Radio Luxemburg, e mi ricordo che noi la sera, eravamo in 5 o 6, con un amico che aveva una Fiat, un 1100, con l'autoradio, e andavamo in un posto dove avevamo capito che lì, avevamo visto che lì si poteva fare collegamento, si prendeva Radio Luxemburg. E lì passavano tutte le canzoni americane, cominciava da Elvis Presley a tutto quel genere di musica che a noi ci appassionava da morire. E lì abbiamo cominciato a capire che la nostra musica sarebbe diventata quella. E pian pianino nel tempo, poi sono usciti dei film, non so, Gangster cerca moglie, non so se tu l'hai visto, ti è capitato di vederlo, con la Jane Masfield, Tom Ewell, eccetera. C'erano degli spettacoli che facevano vedere nel film e riprendevano cantanti, non so come Jim Vincent, Eddie Cochran, tutta questa gente che cantava e suonava in una certa maniera. E da lì è partito il nostro amore per quel tipo di musica. Poi nel 1963 sono arrivati i Beatles, non ti dico, e siamo andati fuori di testa. Abbiamo cominciato a suonare. C'è un nostro amico che era partito diretto a Londra solo per comprare l'LP uscito, Please Please Me, che era il primo LP dei Beatles, e l'ha portato in Italia e da lì abbiamo cominciato a capire qua e là delle canzoni e a suonarle, non nei concerti che non si facevano con già, ci facevano degli studenteschi a sabato pomeriggio da un po' di parti, eccetera. E poi siamo riusciti a ottenere un provino dalla Ricordi, abbiamo fatto questo provino, ci hanno preso, cioè hanno accettato la nostra maniera nuova, nuova, nuova per il tempo da noi italiani, di suonare in una certa maniera, e abbiamo registrato, come ti ho detto, il primo disco è uscito a metà 65, forse prima, a gennaio, febbraio, se non mi ricordo, e poi, sempre nel 65, abbiamo registrato Sognando la California. Poi in sala, è cominciato con noi, c'era anche Lucio Battisti e da lì è partita la nostra rivoluzione musicale, con grande successo, devo dire, perché con Lucio abbiamo fatto diverse cose, ho imparato anche a cantare, perché Lucio era veramente un marziano, non che cantassi in marziano, cantava in italiano, ma mi ha insegnato molto, e da lì siamo andati avanti, gli anni passano, le mamme invecchiano, e di cura. No, no, la musica non invecchia mai, ma, avete fatto questo percorso, giustamente, con l'evoluzione del momento, ma oggi, Dick Dick sono talmente forti, ancora come una volta, ma con la musica attuale, come mai ancora questo gruppo è importante, cioè ancora un gruppo che viene richiesto ai concerti, come ha detto anche prima lei, oltro c'è uno e tutto il resto, con una musica che abbiamo oggi totalmente differente, come mai questa cosa? Ma ti dirò che non è che sia, la musica nuova è differente, perché questo genere, questo genere che io posso avere, posso avere anche, posso anche dire che a me non è che mi faccia impazzire, perché per me la musica è sentimento, è emozione, se vado via di là mi perdo, e devo dire che però ci sono ugualmente dei cantanti che cantano le canzoni, so Deodato o Ultimo, questa gente sono sempre all'altezza della situazione, sono anche molto bravi per me, e perciò da lì si prende anche, si capisce anche che c'è un po' di ritorno a quel tipo di musica che ti fa sognare, che ti dice delle cose di vita, e questo è quello che io prendo dal Festival di Sanremo, da altre situazioni, e questo mi fa ancora piacere ascoltarli. Altri non mi interessano, perché non mi dicono, non mi emozionano, perciò sbaglierò, perché come dici tu, la musica è musica, però non lo so. Io credo che ha completamente ragione, infatti l'Ultimo Sanremo si è ripreso un po', diciamo, questa nostra melodia. Certo, certo, è vero. Che consiglio potrebbe dare a un ragazzo che vuole intraprendere questo mondo dello spettacolo così complesso, perché è molto difficile, perché non si riesce oggi a capire se bisogna avere più talento o più fortuna. Ti dirò che oggi ci sono assieme diverse cose, la presenza fisica, altre cose, la musica devi anche impararla, suonarla e uscire da questa situazione un po' ostantia, che magari, non dico che noi siamo ostanti, perciò per questi ragazzi, la nostra è una musica oramai, ascoltano magari i battisti, perché se devono andare in spiaggia a suonare la chitarra, le canzoni sono quelle lì, non sono le altre. Devi appoggiarti a quelle canzoni per allegrare tutta la compagnia, cioè da Vasco Rossi a Zucchero, cioè questi sono dei personaggi incredibili, anche loro sulla cresta dell'onda da tantissimi anni, ma continuano imperterriti, perché sono molto bravi, molto intelligenti e riescono a soddisfare i loro fan alla maniera giusta. Perciò io dico che c'è spazio per tutti, perciò poi uno sceglie quello che meglio gli aggrada, che più gli aggrada. Vedo, quando vedo dei concerti di questi nuovi, eccetera, e vedo che i giovani, le canzoni le conoscono tutti, cantano tutte le parole della canzone, diventano matti per questa gente. Se mi ricordo cosa succedeva con i Beatles, quando loro si esibivano, i giovani davano fuori di testa, gridavano come dei disperati e non capivano neanche cosa stessero cantando. Questo, questo, un po' la musica, gli anni si ripetono continuamente, però i giovani sono quelli che comandano il gruppo, questo è poco, ma sicuro. bisogna vedere chi è che insegna, non dico, chi è che propone ai giovani questo tipo di musica, potrebbero anche fare delle cose un pochettino più aggraziate, secondo me. È giusto questa domanda che devo farle adesso, il futuro, qualche progetto futuro o attuale di Dick Dick? Ma noi cerchiamo sempre di fare cose che entrano nella nostra maniera di pensare, nella nostra maniera di vivere, che poi magari anche incontrano poco riscontro, però noi siamo, non dico che siamo costretti a farle, se uscissimo da questo seminato non saremmo i Dick Dick, questo è poco riscontro. Vi ricordo che c'è stato un tempo quando è arrivato il rhythm and blues o questo tipo di musica con i fiati, le orchestra, qualcuno ci proponeva perché non mettete dei fiati? No, la nostra musica è questa, se noi uscissimo da questo seminato saremmo stonati, questo, perciò noi continuiamo così, se poi la gente non ci gratifica, questo è un altro discorso. Guarda, avete fatto benissimo. Non possiamo fare i ragazzini o che cosa eccetera, noi siamo questi e l'importante è trovare della musica e delle canzoni con dei testi adeguati alla nostra età, alla nostra maniera di suonare, capito? Che è la cosa più difficile che fare musica, che fare solo quello che è la musica. I testi sono determinanti in una situazione simile e non è facile trovarli. Eh no, comunque avete fatto la storia... O scriverli. Avete comunque fatto la... Dimmi. No, ho detto comunque avete fatto la storia e continuerete a fare storia, eh? Sì, qualcuno di noi dice che abbiamo fatto anche la geografia. Questo mi piace, la terror... Dentro la mia taschina proprio un'altra... Bella questa. Quando abbiamo cominciato le strade non erano molte. Per andare in Sicilio che poi dovevi fare il Vallo di Lucania, dovevi fare queste cose... Adesso è diventato tutto molto più facile viaggiare, andare. Anche se sono aumentate naturalmente le automobili, le cose e tutto qua. Però allora era difficile anche viaggiare. E non c'erano i telefonini e mettere su dove andare, eccetera. Ogni tanto arrivavi nei posti o prima abbassavi il finestrino e chiedere scusi per andare a... Hai capito? C'erano anche queste cose. Però era tutto divertente. Comunque veramente avete avuto una storia di generazioni pazzesca, un cambiamento di tempi incredibili. Adesso diamo un attimino in un momento di qualche domandina un po' così. La cosa più divertente che le sia accaduto nella sua vita? più divertente? Beh, la cosa più già divertente è il fatto che tu mi dai del lei. Poi dovrei tornare indietro il fatto che tu mi dai del lei e un... Dovrei risponderti non sono una signora. Ma non è... Non è caso una cosa una stupidata che ho detto così. No, cose divertenti come ti ho detto ce ne sono state tante. Per esempio il primo Sanremo eravamo un po' terrorizzati di andare sul palco perché il Gobo non mi ricordo mi sembra che non ci fosse perciò dovevi ricordarti tutte le parole bene e mi ricordo che avevamo preso una bottiglia di vino una bottiglietta quelle lì di vino eccetera e ce la siamo bevuta prima di salire sul palco perché eravamo un po' un pochettino troppo troppo su di giri nella maniera poco cioè triste nel senso che eravamo veramente terrorizzati. Allora io mi ricordo che dicevo se io mi dimentico le parole cado in terra e faccio finta di svelire. Penso a dove eravamo. Ad ogni modo una delle cose divertenti è stata quella adesso poi così a freddo eccetera non mi ricordo altre cose da raccontare anche se scavo magari immagino ti mando un appunto dimmi no ti volevo dire noi siamo arrivati purtroppo ai 20 minuti che sono volati così io vorrei ancora parlare con te titolo del tu però purtroppo la nostra trasmissione ai 20 minuti ce la chiudono quindi per questo momento qui io ti saluto con un grande abbraccio ti ringrazio ti saluto anch'io ti saluto anch'io però ho un'altra puntata perché veramente puoi raccontarci tutto e di più va bene promesso quando volete organizziamo un'altra un'altra trasmissione un altro tu tu per tu io e te va benissimo molto benvenuti intanto un grande bacio e anche per oggi abbiamo terminato con il biglietto da visita però la seconda parte con questo grande artista frontman dei big dick sarà la prossima settimana non ve lo perdete ciao da me Silvia Pagni